Eseguito dai poliziotti delle volanti, l'arresto in flagranza di reato di due presunti responsabili del furto di tre motocicli perpetrato nel cuore della notte a Messina. Rapina impropria in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati contestati al 31enne e al 30enne, entrambi i catanesi, bloccati e arrestati al termine di un pericoloso inseguimento in zona Gazzi. A dare l'allarme è stato il proprietario di uno dei tre motocicli che, vistosi portare via il mezzo sotto casa, non ha esitato a denunciare il furto in atto, indicando posizione e tipologia del veicolo, un furgone a bordo del quale i rei avevano caricato il motociclo e si stavano allontanando. Immediato l'intervento dei poliziotti impegnati nel controllo del territorio, che hanno individuato e raggiunto il furgone intimando inutilmente l'alt di polizia. I due si sono lanciati in una folle corsa, probabilmente nel tentativo di arrivare in autostrada e di leguarsi. Nuovamente raggiunti, hanno provato a mandare fuori strada i poliziotti, sterzando e impattando contro la volante. Infine hanno abbandonato il furgone in corsa, fuggendo a piedi in un ultimo tentativo di sottrarsi all'arresto. Tentativo risultato vano, considerato che i poliziotti delle volanti sono riusciti ad ammanettarli e sottoporli a immediato arresto. A bordo del furgone, insieme allo scooter appena trafugato, gli agenti ne hanno rinvenuti altri due, anch'essi rubati, nel corso della notte. I successivi accertamenti sul furgone hanno dimostrato che anche quel mezzo su cui viaggiavano era stato asportato il giorno prima a Paternò. Si è pertanto proceduto a contattare immediatamente i legittimi proprietari dei rispettivi motocicli e del furgone, procedendo così alla riconsegna. Rinvenuti e sequestrati a bordo del furgone, anche gli strumenti utilizzati verosimilmente per forzare i mezzi asportati, tra cui cacciaviti, una pistola smontagomme, una tronchesina e alcune chiavi a bussola. I due arrestati, altresì denunciati per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e danneggiamento ai beni dello Stato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Messina a Gazzi, in attesa di convalida del Jeep.